bentornati su un nuovo video del canale dantes hardware nuovo video riguardante sistemi di dissipazione e case e case la nostra bene amata endorfi che ci ha subito mostrato la qualità immensa appena uscita cosa che praticamente non succede mai appena escono dei brand che poi magari sono dell'est europa arrivano subito delle cioffe che devastanti questo non è stato perché endorfi appena è entrata nel mercato europeo ha inserito prodotti di una qualità estrema mi sono arrivati da provare un case e un dissipatore che mantengono sempre questa linea stiamo parlando dell'endorfi a rx 500 rgb che è un case mid tower full tower come dovete chiamare con illuminazione rgb e del dissipatore navis 280 a rgb qua dietro lo vedete eccolo qua praticamente adesso lo vedremo bene è installato sul mio sistema con 5.800 x e rtx 40 70 e sono rimasto veramente veramente soddisfatto delle performance del dissipatore che è a livelli di top gamma per quanto riguarda la dissipazione poi vi farò vedere i video non ho mai visto un ryzen col pbo sparato a bomba stare così freddo giuro su dio mai vista una roba simile ma prima andiamo un attimo a vedere tutto quello che è il case il case è comunque molto sobrio le forme sono abbastanza squadrate però al suo interno ha una grande capacità di cable management anche dietro sono installate tre ventole frontali da 140 ad alta velocità una ventola posteriore e sono già presenti le fascette posteriore per il cable management una cosa veramente bella di questo case è la possibilità della modularità quindi possiamo aprire il pannello frontale che è magnetico al posto che staccare tutta la porta e aprire la porta superiore per installare il raiatore tutto quanto senza dover tribolare comunque con le posizioni tutto è dotata di usb type c e usb 3.0 sopra ed anche un comodo pulsante per cambiare il colore degli rgb ha un suo controller integrato può montare dissipatori da 360 280 o 240 anche il dissipatore è veramente fantastico molto sobrio il piatto di dissipazione veramente grande e permette un grande potere di dissipazione come vedete anche le colorazioni sono carine poi possiamo anche abbinarle direttamente al software della scheda madre per scegliere la colorazione tramite il software proprietario della scheda il montaggio del dissipatore è abbastanza facile praticamente a quattro vitine che si avvitano diretti quattro prigionieri che si avvitano direttamente sul backplate amd poi si infila il dissipatore e si avvita con i quattro dadi che hanno il foro per mettere il cacciavite quindi è abbastanza veloce i cavi sono abbastanza lunghi per mettere il cavo come vedete montato sulla parte più lontana del dissipatore e arrivano tranquillamente l'alimentatore necessita della connessione con il cavo sata per far il dissipatore con il cavo sata per far girare la pompa che altrimenti solo con il connettore pvm non gira perché è una pompa ad alta potenza la pompa è proprietaria navis quindi proprietaria endorfi fino a 2600 giri al minuto per quanto riguarda le ventole sono le fluctus e danno un profilo seghettato comunque ventole la 140 che fanno 1800 giri permettono un buon flusso d'aria senza essere troppo rumorose al massimo risulta leggermente rumoroso ma neanche lontanamente rispetto all'evento del caio dell'altro dissipatore di cui non facciamo il nome qua il 360 che poi sul video successivo confronteremo e faremo un round up di tre dissipatori a liquido 2 360 e un 240 ma questo è un altro video è compatibile con tutti i socket intel dal 1156 praticamente 1066 e il nuovo 1700 e anche gli altri e con il socket am4 e am5 che praticamente è lo stesso socket nel dissipatore troviamo comunque tutto lo corrente oltre all'ottima pactum pt3 che è la pasta proprietaria di endorfi con tanto di spatolina per lo spalmaggio ed è sufficiente per 4 5 installazioni comunque non è troppo piccola e non è grandissima ma è sufficiente per 3 4 installazioni quindi non avremo problematiche nel caso dovessimo pulire e riapplicare la pasta se non ne abbiamo una che abbiamo acquistato a parte spingendo il pbo al massimo quindi con 200 megahertz in più e voltaggi auto raggiungiamo i 5.05 gigahertz e 4,750 gigahertz in multicore avendo temperature di 77 massimo 79 gradi con 144 watt praticamente è una cosa mai vista su 5.800 gigahertz perché non avuti due il primo che avevo che addirittura avevo raffreddato con un arctic e non riusciva a stare sotto gli 88 87 gradi e non eravamo manco in estate insomma adesso ci sono 27 28 gradi in idl tiene i 30 gradi pbo con 10 per quindi massimo del della richiesta di frequenza più 200 megahertz richiesti e tutti i valori a 250 quindi 250 ampere 250 ampere 250 watt 144 150 watt di assorbimento e non supero dopo cinque teste di fila di cinebench r23 i 79 gradi una cosa mai vista e infatti faccio punteggi di un certo tipo 16.300 16.400 punti fu cinebench che con un 5.500 8x non avevo mai fatto quindi anche per processori abbastanza caldi è veramente una bomba poi più avanti con il round up dei tre dissipatori lo proveremo anche full 7.900 x che sappiamo so io personalmente essere veramente un processore caldo e vedremo la differenza con gli altri due che ora non vi dirò ma che vedrete nel prossimo video ringrazio il mio network pluribum network e endorfi per avermi inviato questi esemplari in test che devo dire sono come tutto quello che ha fatto fino ad oggi endorfi come l'alimentatore che vedete lì dietro che è il supremo 1000 watt sono tutti di qualità eccelsa cioè questo dissipatore io penso personalmente sia uno dei migliori dissipatori come rapporto qualità prezzo che ci sia anche perché come prezzo sono abbastanza imbattibili cioè allora per quanto riguarda il case parliamo del arx 500 argb vi dà quattro ventole di alta qualità comunque in case non vi ho fatto vedere la parte posteriore del case ma è comodissima ci sono delle fascettine che vengono che si possono tirare a strappo che praticamente bastano per fare tutto il cable management ed è veramente largo lo trovate a 109 euro che è un prezzo di tutto rispetto perché è in case veramente veramente top qualità la lamiera è bella spessa e non ha niente come vedete praticamente nella parte posteriore le fascettine ci permettono di sono messe praticamente qua in que in questi punti qua ci permettono di fascettare sono tutte presenti fra l'altro quindi ci permettono di fascettare il tutto perfettamente la parte qui sotto ci permette di mettere tutti i cavi dell'alimentatore anche se non abbiamo l'alimentatore modulare senza problemi che abbiamo la busb con il controller a rgb e tutto quanto praticamente quindi per i 109 euro con prime con cui ci viene fornito secondo me è uno dei migliori case che c'è in circolazione poi col discorso che è abbastanza modulare per il montaggio a questo prezzo veramente non si trova molto con questa qualità per quello che riguarda il dissipatore l'endorfi navis f280 a rgb lo troviamo a 119 euro direttamente spedito da prime ed ha delle performance eccezionali se vogliamo risparmiare qualcosa e non ci interessano i rgb possiamo puntare all'f280 liscio senza rgb che ci costa 96 euro vi ricordo che endorfi poi ha anche altre configurazioni quindi 240 a 82 e 90 euro per le versioni rispettivamente non rgb o rgb e la versione 360 rispettivamente da 115 euro per la non rgb spedita con amazon prime e da 119 euro per la versione a rgb praticamente 5 euro di differenza che un consegna dal 9 all'11 ottobre per la versione a rgb che comunque ha dei tempi di consegna un po più lunghi è comunque un ottimo prezzo come vedete praticamente il plate è veramente grande quasi quanto tutto il dissipatore quindi dissipa veramente bene qualunque superficie e la dissipa molto molto bene trovato ovviamente il link per acquistare tutti questi prodottini in descrizione e devo ringraziare innanzitutto plurium network il mio network per avermi messo in contatto con endorfi e fatto provare tutti questi prodotti fino ad oggi ed endorfi lo devo ringraziare per due motivi uno per avermi mandato questi prodotti quindi noi abbiamo provato un sacco di cose da endorfi abbiamo provato la tastiera abbiamo provato questo microfono questo l'SPC di endorfi abbiamo provato due case di cui l'avevo regalato al nostro amico Ryuk che purtroppo per problemi suoi è sparito e non si è visto più e poi questi case fantastici quindi anche questo secondo case e il dissipatore e io non ho trovato un prodotto che non sia stato non buono ottimo non sono marchette ragazzi è la verità vi invito a provarlo prendetelo se non vi piace fate il reso non vi rendete conto di quanto raffredda questo dissipatore e di quanto il case sia ottimo e comodo per montare qualunque cosa e fare dei cable management bellini senza sminchiarsi la testa ragazzi ci vediamo alla prossima con un bellissimo round up di tre dissipatori a liquido un 280 e 2 360 e ripeto ci vediamo alla prossima randes hardware non dimenticatevi di lasciare like di condividere accendere la campanellina e di iscrivervi insieme ai miei social facebook instagram e tiktok ciao 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 ciao